Stop all'esenzione dalle tasse per i porti italiani. La Commissione europea scende in campo in modo perentorio. I benefici fiscali agli scali italiani, così come quelli spagnoli, sono aiuti di Stato. Ed ecco l'invito netto e deciso del Commissario europeo per la concorrenza, Margaret Westager, ad adeguare le leggi nazionali in modo che dal 1 gennaio 2020 le autorità portuali paghino le imposte sulle società come tutte le altre aziende che realizzano profitti. In sostanza significa che dovremmo applicare l'IVA su canoni e concessioni perché ci considerano a tutti gli effetti imprese, spiega il presidente di Assoporti, Zeno D'Agostino, impegnato a Roma proprio per una serie di trattative in materia. Autoriti come quelle di Trieste e Venezia, insomma, dovranno adeguarsi e se è vero che le imprese scaricano l'IVA, non è chiaro se potrebbero esserci degli ulteriori rincari per far quadrare i conti. Dietro alla decisione della Commissione europea, che fa seguito a direttive analoghe che hanno già imposto a Francia, Belgio e Olanda di far cessare le esenzioni, si cela la possibilità che le società di gestione dei porti diventino in futuro delle SPA. In questo senso le prospettive sono quanto mai dubbie, perché se da una parte esperienze come quella di ferrovie dello Stato potrebbero far ben sperare, il passaggio a società per azioni in altri campi, vedi l'ANAS, non promette altrettanto bene per il futuro dei porti italiani.